Spazio Notizia 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 dall'economia al primato della persona. L'indagine rileva la sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il 44,5% degli italiani ha sperimentato situazioni di sovraffollamento in reparti ospedalieri o strutture sanitarie. La soluzione, secondo il 92,5%, è procedere all'assunzione di medici e infermieri nel servizio sanitario. D'altro canto, oltre l'84% degli italiani ha fiducia nei medici del servizio sanitario stesso. Per l'85% dei partecipanti, inoltre, prima di assumere medici da altri paesi, sarebbe opportuno trattenere quelli italiani evitando la loro fuga all'estero. Un modo per farlo, per l'87,2%, è quello di migliorare le loro condizioni di lavoro e retribuzioni. La stabilizzazione è contrattuale e un ulteriore mezzo, dato che l'84,5% degli italiani è convinto che avere troppi medici con contratti temporanei e intermittenti indebolisce la sanità. Fondamentale è anche garantire ai medici l'autonomia. Il 78,9% degli italiani è convinto che a decidere su cure e farmaci debba essere sempre solo il medico, senza sottostare a vincoli di budget o finanziari. Secondo l'indagine, inoltre, negli ultimi dieci anni, il lavoro precario del sistema sanitario è quasi raddoppiato. Le unità di lavoro annue con contratti di lavoro a tempo determinato o interinali sono passate da 31.564 del 2012 a 57.522, con un incremento dell'82,2%. Restiamo in ambito sanitario, parliamo dell'AIFA, la banca dati dei farmaci che si dota di una nuova applicazione per i cittadini per usufruire di tutti i servizi a portata di click. La banca dati dei farmaci dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, si rinnova per essere sempre più vicina ai cittadini anche tramite un'app. Bastano infatti pochi click per essere aggiornati su caratteristiche, indicazioni terapeutiche, controindicazioni, interazioni con altri farmaci, rimborsabilità, eventuali effetti dopanti per chi pratica sport agonistico. E con l'app si può creare anche un armarietto personale dei farmaci che ricorda quando assumerli, perché la mancata aderenza alle terapie nuoce in primis alla salute, ma anche alla nostra economia, visto che fa gli evitare di 10 miliardi i costi sociali e sanitari. Ma l'app fa anche altro. In via alert, quando un farmaco viene sospeso o ritirato dal commercio, aggiorna costantemente i medicinali per i quali si registrano carenze, segnala i farmaci con effetti dopanti per chi fa sport a livello agonistico. Una funzione che verrà arricchita quest'ultima, specificando anche per quali tipi di sport un medicinale è considerato dopante e se in gara o in allenamento. Un'applicazione semplice per risolvere un grande problema, quello della mancata aderenza alle terapie da parte soprattutto dei pazienti cronici e anziani in politerapia, che interrompono o assumono con discontinuità i farmaci nel 50% dei casi quando si arriva a doverlo fare per quattro volte nel corso di una giornata, sottolinea il presidente dell'AIFA. Un problema continua per la salute dei pazienti, ma anche per i conti pubblici. Negli USA gli studi stimano in 100 miliardi di dollari l'anno i costi sanitari e sociali indotti dalla mancata aderenza alle terapie. Fatte le debite e proporzioni, conclude, si potrebbe stimare in 10 miliardi l'onere per l'Italia. Ma le funzioni dell'app non finiscono qui. Quando è certificata la carenza di un farmaco viene immediatamente notificata se questo è in uno dei nostri armadietti o tra i preferiti. Un link al sito di AIFA consente poi di sapere quando è prevista l'accessazione della carenza e se ci sono in alternativa, come nella stragrande maggioranza dei casi, altri prodotti equivalenti o con la stessa indicazione terapeutica. In ogni caso viene raccomandato di rivolgersi sempre al medico prima di cambiare una terapia. Parliamo adesso di alimentazione. Dagli ultimi dati è emerso che seguire modelli nutrizionali errati costa annualmente ogni anno ad ogni italiano 289 euro in più, gravando anche sui costi sanitari. Diete e modelli nutrizionali errati costano ogni italiano circa 300 euro in più all'anno e incidono sulla probabilità di insorgenza di malattie, determinando un duplice rischio. In termini di impatto sulla salute e più in generale incrementando i costi economico-sociali, determinando una contrazione annua del PIL europeo del 3,3%. Le evidenze di questa correlazione sono state esposte dalla Fondazione Aleteia, primo think tank scientifico italiano, nel rapporto Malattie, Cibo e Salute, illustrato dal Comitato Scientifico della Fondazione con il patrocinio nella sede del Ministero della Salute alla presenza del Ministro Orazio Schillaci. Nel 2023 l'eccesso di peso, secondo il report, ha interessato il 46,4% della popolazione di maggiore età, rilevando una crescita nell'ultimo ventennio del 7,1% delle persone in sovrappeso e del 36,4% di quelle affette da obesità. A questo si aggiunge anche un aumento dell'incidenza di diabete, che passa dal 6,3% nel 2021 al 6,6% nel 2022, con una crescita negli ultimi vent'anni del 65%. Entrando nel dettaglio, l'incremento del sovrappeso legato a stili nutrizionali errati rappresenta il 9% della spesa sanitaria nazionale e ad ogni italiano costa un'extra tassa annuale di 289 euro. In tal senso, la dieta mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, ingloba ed esprime differenti valori di contrasto a questo fenomeno. Nemici della salute sono invece i cibi ultraprocessati. Il rapporto evidenzia infatti come una riduzione del 20% delle calorie assunte da alimenti ad alto contenuto di zucchero, sale e grassi saturi potrebbe prevenire in Italia 688 mila malattie croniche entro il 2050 e far risparmiare 278 milioni di euro l'anno di spesa sanitaria, circa 7 miliardi nei prossimi 25 anni. Voltiamo pagina adesso e parliamo di Palermo Culture Pass, la presentazione del ticket della validità di 7 giorni per visitare 4 siti tra i più importanti della città di Palermo, ovviamente a un prezzo scontato. Nasce Palermo Culture Pass, un biglietto unico per visitare 4 tra i luoghi più conosciuti di Palermo, il Museo Salinas, lo Steri, l'Orto Botanico e Palazzo Riso. Il costo del ticket è di 23,20 euro, con un risparmio del 20% rispetto all'acquisto dei singoli tagliandi. Arte, natura, cultura e storia, tutti in un unico tagliando. Un progetto atteso da tempo, soprattutto dagli operatori culturali e turistici, si dice l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Esempio di sinergia tra istituzioni, università e regione siciliana è un privato come Cap Culture, che ne gestisce i servizi. Siamo convinti che questa iniziativa possa rivelarsi un ottimo veicolo di promozione del nostro patrimonio culturale, con i siti più visitati pronti a trainare anche quelli meno conosciuti, creando così un virtuoso effetto domino. Un unico biglietto, quindi, con il quale sarà possibile intraprendere un percorso storico, naturalistico e artistico che parte dalle origini della città, con i reperti archeologici del Salinas, passa dalle carceri dell'Osteri alla scoperta del periodo dell'inquisizione spagnola attraverso il polmone verde dell'orto botanico e si conclude tra le sale del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Riso. Palermo Culture Pass sarà acquistabile sul sito di Cap Culture oppure direttamente in miglietteria e avrà una durata di sette giorni dal primo accesso e consentirà una sola visita in ciascun sito. Da Palermo a Taormina dove hanno preso il via le serate del lusso, mentre in Pazza il Festival del Cinema. Sergio De Luca è imprenditore dell'industria dell'ospitalità. Quali sono i nuovi trend per Taormina? Allora, Taormina sicuramente ha un mercato del lusso che sta crescendo tantissimo, quindi sicuramente puntare tanto su questo mercato e organizzare qualcosa di specifico, puntando soprattutto sul siciliano ma anche sull'internazionale. Questa sera una serata messicana, quali sono i temi che ha proposto? Allora, questa sera abbiamo fatto messicana qui al Diodoro, sia per i clienti albergo sia per gli esterni. Fra due settimane faremo street food siciliano e il 9 di agosto faremo anche serata Aperol perché il nostro gruppo ha fatto quest'anno una partnership tra Aperol d'Italia e tutto il gruppo guys, quindi sia Diodoro che Cap Arena. Il lusso quindi è di casa, Taormina? Sì, sicuramente sì, da un paio di anni a questa parte e quest'anno secondo me ancora di più. Felice Munafo con lo staff del Diodoro. Ecco, una serata messicana, quali sono i gusti che ha proposto ai clienti provenienti dalle più disparate località internazionali? Ma cerchiamo di fare, tanto di farli mangiare bene, che è una cosa essenziale, e poi di aggiustare con un po' di cili, un po' di guacamole, dei piatti classici messicani, come quando vengono qua in Sicilia e chiedono la norma, chiedono le salte a beccafigo, cerchiamo di avvicinarci a quei piatti classici messicani che si fanno nel mondo. E adesso uno sguardo allo sport, parliamo di calcio, prosegue la preparazione del Palermo, queste le parole in conferenza stampa del centrocampista Filippo Ranocchia. Ogni allenatore ha le sue richieste, sono differenti, il mister la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede, poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà, io come tutti gli altri saremo pronti ad eseguirle in campo. No, chiaramente l'esordio sicuramente è stato molto positivo, ma lavoro tutti i giorni purché non sia un evento straordinario, nel senso cerco di allenarmi affinché la partita sia sempre come gli esordi, insomma, per tutto il campionato, non solo per cinque partite. No, allora, sapevo che Checco voleva cambiare il numero perché aveva portato due anni, voleva cambiarlo, allora a me è un numero che è sempre piaciuto e allora Biandici lui me l'ha lasciata molto gentilmente, io ho deciso di prenderla perché è un numero che mi piace e che ho sempre voluto indossare, insomma, e indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale, insomma. Ma è il primo ricordo che ho del 10 della Maia del Perm, sicuramente piccoli, ma io l'ho presa perché, appunto, come ho detto, è un numero che mi piace e che voglio rendere mio, insomma, senza chiaramente mancare di rispetto a nessuno e senza fare nessun paragone. È un numero sicuramente particolare, però alla fine non è tanto il numero che conta, ma è quello che si fa in campo, insomma. Era questa la nostra ultima notizia per quest'edizione, si conclude qui Spazio Notizia, ovviamente buon proseguimento di visione sui nostri canali. Grazie a tutti.